Il mio personaggio si chiama Guia, ha 31 anni, è direttrice creativa e giornalista workaholic. Lei ha una vita agitata, esiste, con tanti cambiamenti, frenetica, molto passionale, creativa. La rende felice sul lavoro, molto felice. Lei ha imparato a confrontarsi con persone di mondi diversi e anche a ritrovarsi, si può dire, con la sua essenza. E ha imparato la cosa più importante, che quando l'amore arriva nella tua vita, ti trasforma, tutto cambia per lei. In comune con Guia abbiamo la passione per il lavoro, un amore profondo. La differenza è che lei è una persona fredda, distaccata, che non vuole approfondire i rapporti con le persone. E anche che ha un passato talmente chiuso, che nessuno può... Così, c'è, c'è, c'è.